Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono FranciGG e stiamo qua a giocare a Watch Dogs, episodio 3, 4, episodio 3. Vi avviso che purtroppo senza saperlo ho fatto metà di Cyber Driver, quindi scusatevi, perdonatevi, comunque non era niente di che, era solo di rubare l'auto e l'ho portata al garage e basta. E come vi ho detto già nello scorso video, che sarà di Destiny, io non lo so neanche io, ho detto che ho il ventilatore perché fa caldo e quindi non rompete le scatole, ok? Sì, è incro. Perfetto, cominciamo già male, perfetto, eh, perfetto, buon giorno. Ehi, Sita, volevo chiederti dei tuoi poster, sono belli, davvero belli, sembra arte. Fanculo! Eh, tanto sono lì, oh... Eh, arte. Ah, non saprei, sai, non mi intendo molto di street art. Allora sarai il mio solo assistente, ti manderò una posizione. Ci vediamo là, se pensi di farcela. Ma non voglio, dopo. Domani o da solo? Ho detto scusate ma devo per forza prendere i soldini perché io qua sono un poverino. Non so se dirvelo o no, perfetto, ok, ve lo dico. Ho trovato il mio account, quello vecchio, perché ho cambiato la play e tutto. E quindi ho eliminato il mio vecchio, il mio nuovo account. Allora, ok, vai. Facciamo, allora, per farlo spiegare meglio. Oh, croato il mio account, capito? Perfetto. Lo so in spagnolo. Hola, rancio, pariente, familia. Allora, che ci passa qui? Yeah. Ok. Eh, sì, per se me lo state chiedendo, sì. Sono spagnolo. Cioè, non sono spagnolo, cioè, sono del sud. Yeah. Ah, 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 ah. Informazione random, by French GG. Perfect, andiamo. Ehi, bra. Adesso te ne torni a casa e ti infili la testa nel di dietro. Ma chicca. Va bene, bra. Calmati. Non volevo fare un posto. Ma, ma, ma tu mi spieghi come faccia di arrivare là sopra. Vai, groane, illustraci. Allora, ok. Ehi, mi immagino che ci c'è di mezzo un parkour. Partito da dove? Ma perché? Ma io non sto capendo allora. Saltino di qua, saltino di qua, saltino di qua. Un salto di qua, salto di qua, salto di qua. E tada! E giù. E... No, io voglio buttarmi. Lì, è... Perfetto. Non sono morto. Allora. Ah, sì, due. Ho cambiato il microfono. Già. Se si sente di più, ma... Si sentono più le cose di sottofondo. E gli sputi. Già, mi spiace. Però almeno si sente di più e poi... Non so. Mi informano che si sente di più tipo... In tutto il tempo. Quindi ho detto, ma no, povera gente che dovrà sentire. Quindi ho detto, sai che ti dico? Cambio il microfono e quindi ecco un po'. Cambiando il microfono. Comunque avevo visto... Ecco voi. Dove sono io? Sono qua, basta clicca così. Andiamo. quel sacco è grande quindi più soldi yes boy andiamo si scusate se nei video scorsi non ho parlato molto ma adesso parlerò tanto perché sennò sono noiosi i video non voglio che siano noiosi capitemi ok allora un saltino di qua no 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 scherzo scherzo un saltino di qua ok va bene e dovrebbe essere qua perfetto no però ok perfetto grazie vai andiamo adesso non so fitte però è quella delle cose loro questa cosa l'ho già fatta mille volte ma non so perché spona sempre vabbè comunque andiamo a dare alla nostra macchina e andiamo ok vabbè smettiamolo di fare cavolate andiamo nell'app si ho fatto hack and run rubala ah si ho fatto anche la missione quella la di rubare il copione mi spiace mi spiace però poi c'è questo andiamo allora vi avviso che comunque scherzo 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 e tipo anche venerdì un sacco di video saranno su perché io ho un sacco di video pronti voi pensate che adesso che registro non ho ancora non ho ancora messo su il primo episodio di watchdogs il primo cioè cioè vabbè ti ascolto ah non è già di notte perfetto bravo cherzo a ma Scusa ma che dobbiamo fare? La stiamo dicendo e attirando un sacco Non ho capito E vai Cazzo Cazzo si facciamolo Cazzo si facciamolo Un giorno a circa dirà male C'è la faccia eh? Ma guardatelo Ah la faccia di uno che ci crede Ma sapete di cosa ho paura? Perché sinceramente che sto dicendo questo E che magari accada e che voi pensate che Cioè che ho già finito il gioco Non devo dire Faccio teorie e basta Poi se sei vero o no Ok Ok Sei brutto? Sì io sì Tu sì che sai come divertire Cazzo sì Noi andiamo Ok è tutto pronto Pronti? E azioni? Buono Wow c'è il turbo Sai che cosa serve? L'atmosfera Vabbè amico Vabbè 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 Inseguiremo un veicolo Risponda alla descrizione dell'auto di Cyberdriver Ripeto Risponda alla descrizione dell'auto di Cyberdriver Non no, c'è il nome non c'è nessuno alla guida no George devi farti controllare la vista per mille ranocchie nessuno guida quell'auto via da qua andiamo ma che cazzo andiamo via ehi la fama non mi cambierà collegati in diretta riceviamo segnalazioni sull'auto di cyber driver che esegue acromatie in tutta la città quest'auto fastezza ha aspirato una gran bolla potrebbe trattarsi di una trovata pubblicitaria in vista dell'uscita del film cyber driver oh magari che no e sembra che non la guidi nessuno wow via la polizia insegue l'auto di cyber driver ehi che cos'è amici vediamo un logo deck esatto che cos'è vediamo ok cazzo che storia ahahah 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 uh uuuuuh fico 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 4 e orto vediamo avanti piuttosto che comune video io non no quale 國家 e domina internet domina il mondo domina il mondo yeah bro wow ma adesso che facciamo insomma sul serio alziamo la posta esatto quello che pensavo wow gg state guardando of course ma quello è il canale per i depressioni o del secondo si del secondo episodio che si loro cioè dai guardateli hanno addirittura un loro marchio li seguo da quando sono entrati nella nostra rete di server porca puttana non urlarmi nelle orecchie chi sto qua usa la tua voce interiore ok comunque manca solo la stretta di mano collaboriamo con l'omenizzolo nel caso ci siano dei danni collaterali nel nostro rapporto chi è sto qua saranno discreti va bene che era un gruppo di idealisti prima che tu lo trasformassi in un movimento la gente sfoggia i tuoi disegni ripete i tuoi slogan hai davvero cosa io voglio che la gente si svegli hanno dormito per un bel pezzo ma ora è finita che figata comunque i